Visti 77 grammi di fosforo come fa bisogno per una pianta adulta, abbiamo verificato insieme al Dottor Zangari che in questo terreno, viste le analisi fatte dal laboratorio accreditato, abbiamo una fortissima carenza di fosforo da dover integrare. Da tenere sotto controllo e senz'altro il quantitativo scarso di fosforo, quindi se vogliamo integrare e facilitare la crescita delle giovani piante dobbiamo favorire l'apporto di fosforo. In questo caso è consigliabile l'apporto di fosforo autunnale con del semplice perfosfato minerale, un apporto di perfosfato minerale nella dose di 3 quintali, 3 quintali e mezzo per etaro potrebbe essere più che sufficiente per accrescere la dotazione fosforica del terreno che in questo momento è un elemento veramente molto carente, siamo a 7 mg sui 34 minime necessarie per mantenere una buona crescita delle piante d'olivo in accrescimento. Naturalmente se entriamo in produzione il quantitativo di fosforo necessario è circa di 77 mg, ovvero 77 g per pianta d'olivo da apportare ogni anno, quindi con una dotazione di 7 siamo veramente ben lontani. Benissimo, viste le analisi commentate dal Dottor Aldo Zangari abbiamo appunto capito che in questo terreno abbiamo una forte carenza di fosforo, mentre gli altri elementi come il calcio, l'agiotto e il potassio sono a posto, il fosforo è praticamente annullato, per cui procediamo con un'integrazione, fatti i conti da Dottor Zangari, per 3 kg di fosforo a pianta. Continuiamo con il dosaggio del fosforo sul terreno, per fare una valutazione economica della concimazione che stiamo facendo, innanzitutto c'è da dire che è una concimazione specifica, perché è in funzione di un'analisi fatta con l'analisi del terreno, per cui questo fosforo serve, per cui i soldi spesi sono soldi che non sono spesi basandosi sul sentito dire, sulla generalizzazione, ma facendo un'analisi specifica. Per cui un ballino all'incirca è costato intorno ai 15 Euro, utilizzando in funzione del far bisogno che abbiamo 3 kg per ogni ballino, con un ballino facciamo circa 8 piante, per cui abbiamo una spesa indicativa di circa 1,80 Euro a pianta, per una pianta adulta. Questo non è poi così poco, ma vista la necessità importante e la carenza di fosforo, siamo dovuti intervenire con questo tipo di concimazione. Grazie. 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 Grazie.